Un giugno dove i ragazzi di questa città sono veramente al centro e diventano lo straordinario patrimonio umano. Quindi dal maggio dei monumenti, dove il cuore della città di Napoli è il nostro patrimonio artistico, culturale e monumentale, al giugno è giovani. Un mese che quindi vuole raccontare le politiche messe in campo durante tutto l'anno. Un mese dove, happening, contest, ma anche corsi e workshop, i ragazzi di questa città daranno vita ad un'animazione cittadina che abbraccerà tutte le dieci municipalità. Grande attenzione alle periferie. Trenta giorni che attraverseranno il mondo della scuola, dell'università e della cultura, incentrati quest'anno sul tema dell'accoglienza turistica. E l'apertura sarà una tre chilometri di musica delle scuole napoletane. E' il programma di giugno giovani, che diventerà un appuntamento annuale, così come il maggio dei monumenti. E' grande livello qualitativo dei progetti che sono stati selezionati attraverso un bando pubblico e che quindi daranno un'immagine molto forte ad una tematica, quella dell'accoglienza turistica, che ha avuto forte importanza nei progetti.